una cosa molto curiosa è che spesso e volentieri ci sono dei giocatori che arrivano al posto di altri c'è questo caso Edmar nel Pescara nell'88 si racconta che arrivò al posto di un certo Romario perché gli osservatori del Pescara giustamente non era una squadra forte quindi si lasciarono prendere dalle dichiarazioni, dai commenti che davano in patria Edmar poi alla fine giocò 2-3 anni ma fece 4-5 gol in totale Romario come vedete ha alzato la coppa del mondo un altro è Beto che nel 97 arrivò al Napoli si racconta che perché il Napoli non versava in buone condizioni economiche il gremio squadra al quale comunque doveva essere versato pare che volessero offrire in cambio un 17enne che si chiamava Ronaldinho alla fine però Ferlaino preferì i soldi e quindi lui prese altri voli un altro e questo non è molto conosciuto è Rubio detto il Passero che arrivò al Bologna nell'88 e fu acquistato insieme a un certo Zamorano solo che poi è come se fecero un provino li misero di fronte e Maifredi che era l'allenatore del Bologna di quell'anno doveva scegliere se prendere Rubio che era molto affermato ed era quasi un mito in patria tant'è che era detto il Maradona delle Ande o qualcosa del genere Zamorano invece era giovanissimo e fu considerato come dice ma non lo vedi in campo come ciondola quello non la butta dentro nemmeno a mezzo metro dalla porta in realtà poi Rubio giocò 14 partite senza segnare Zamorano è rinato è stato un grande campione al Siviglia Real Madrid e si è preso la sua rivincita venendo in Italia all'Inter sono storie in alcuni casi vere questa di Rubio e di Zamorano è conclamata le altre non si sa con certezza però se si racconta ci sono sicuramente alcune certezze grazie 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 grazie